Ok ragazzi, grazie di essere qui. Serratona speciale oggi, qui per i nostri 25 anni di attività. Si alterneranno sul palco tante persone che hanno collaborato con noi e ancora stanno collaborando e suonano con noi. E quindi sarà veramente bello. Speriamo di divertirci tutti, anzi ne sono sicuro. Grazie a voi che siete qui, grazie a quelli che non sono qui, che non hanno potuto essere qui. E soprattutto, grazie Rock'n'Roll! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.